La donna è immobile, qua il fiù del vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mani vera e già andrò riso, il bianco in un viso e il sognero. La donna è immobile, qua il fiù del vento, muta d'accento e di pensiero. La vita non è un dibujo animato, ricicla tu basura. Todo niño tiene derecho a un ambiente saludable, però la basura sta ganando terreno cada vez más en América Latina. Limpia tu entorno, separa tu basura e reciclala. Movimento Cartoon, se mueve por el planeta, junto a UNICEF.